Namaste, io sono Ace Brave e bentornati ad un altro episodio di Magic Duelz in cui vediamo le origini di Chandra Vediamo un po' che cosa è successo Riesci a sfuggire alle autorità grazie alla nuova magia che scopre di possedere, ma il tuo dono infuocato non passa inosservato I soldati di Kaladesh guidati dal temibile campitano Baral ti danno la caccia per tutta la città Quindi siamo ancora a Kaladesh qua dopo che abbiamo scoperto appunto i nostri superpoteri Vediamo un po' che cosa ci capita nel secondo combattimento con il nostro mazzo completamente rosso I soldati del capitano Baral ti hanno quasi raggiunto quando ti infili in una fonderia di artefatti per nasconderti Non appena entri però una schiena di artefatti automatizzati rileva la tua presenza e prende vita Non sembrano molto amichevoli Ok eccoci qua contro il sistema di sicurezza, a conto fare, di... Ok intanto vediamo cosa abbiamo, fiamma devastante, vandalo maniaco e fiamma edizione Manteniamo sta mano, vediamo se riusciamo a fare qualcosa Allora questo è un mazzo, è un nemico che è il sistema di sicurezza della fonderia E a quanto pare c'entra con gli artefatti, le creature artefatti costrutti eccetera Vuol dire che non hanno colore, sì questa è una montagna e quindi è tecnicamente rosso Ma in teoria le creature che usa saranno costrutti o qualcosa di questo tipo Vediamo se siamo fortunati adesso a vedere qualcosina e soprattutto a poter giocare qualcosina Cioè che siano montagne o che siano isole, esatto Ha giocato un servitore unico che non ha colore fondamentalmente È grigio come potete vedere e sono creature artefatto Cioè valgono sia come creature sia come artefatte Quindi tutte quante le magie che possono far male a creature e artefatti funzionano Contro di loro, ma hanno delle grosse caratteristiche In questo caso quando il servitore unico muore ogni giocatore pesca una carta Che a me va bene Perché però devo distruggerla Vediamo se riusciamo a farci qualcosa Perché per adesso stiamo iniziando abbastanza lentamente Però posso giocare a una fiamma devastante che infligge X danni Però dovrei avere più cose, quindi non posso giocarla Non possiamo giocarla perché appunto se la gioco adesso spendo due terre e la X sarebbe uguale a zero Quindi farei zero danni Lui gioca un costrutto capo della fonderia Le altre creature artefatto e controlli perdono più uno più uno Aia Cominciamo con le sinergie E comincia ad attaccarmi Ok Abbastanza male come inizio Vediamo se riusciamo a farci qualcos'altro L'incendia pire a rapidità potrebbe anche andare bene La fiamma detenzione ardente infligge tre danni Divisa tua scelta tra uno, due e tre creature Questa è furia di Chandra Però costa cinque E farebbe anche abbastanza bene Il vandolo Quando il vandolo entra nel capo di battaglia distrugge un artefatto versaglio Buonissima questa, anzi lo facciamo Giochiamo questa e distruggiamo un artefatto versaglio In questo caso una creatura artefatto Quindi posso distruggere questo Quindi vedete è una carta che distruggerebbe gli artefatti in realtà che non si usano tanto Ma contro questo mazzo qua è perfetto Quindi devo cercare di giocarne di più di questi Perché funzionano molto molto bene Vedete c'è scritto, non c'è scritto distruggere una creatura artefatto Ma c'è scritto artefatto E comunque se è inclusa la parola artefatto Vuol dire che possiamo usarla Lui gioca un altro creatura artefatto In questo caso larghiette compressore Una 2-3 attacca ogni turno se può farlo Prende più 2-0 fin tanto che controlli un altro artefatto Occhio Perché questa è un'altra carta bella forte Quindi è già una 4-3 Giochiamo questa e possiamo giocare La furia di Chandra no Qua possiamo fare 3 danni divisi Quindi possiamo fare 3 danni a questo e distruggerlo Oppure possiamo usare L'incendio apire Potremmo usarlo Questa rapidità E ha il discorso di rinomare Quindi infligge danno a un giocatore Se non è rinomata Quindi segnalo più 1-1 diventa rinomata Quindi questa è quella che guadagna Ogni volta che ferisce il giocatore Però quindi non le creature singole La fiamma devastante Se la uso adesso farebbe 2 danni Quindi forse è meglio che faccia le fiamme Che faccia 3 danni a questo Che così l'abbiamo eliminato E attacchiamo Vediamo se si para Così almeno pesco una carta in più Ha deciso di pararsi Ci distruggiamo le creature a vicenda E però io pesco una carta Anche lui pesca una carta Abbiamo pescato lo storico elementare del fuoco Che è una 5-4 semplicissima Vediamo che cosa ha Non hai nulla da giocare No, ha qualcosa da giocare In questo caso l'automa guardiano Un altro costrutto Quando muore guadagni 3 punti A me va anche abbastanza bene Perché non dà sinergia ad altri costrutti Ma dobbiamo comunque eliminarlo Più velocemente possibile Ok Costrutto vincolato Un altro ancora Non può attaccare da solo questo Quindi se distruggiamo questo L'altro non può attaccare Ok Vediamo se riusciamo a distruggere qualcosa Questo farebbe 3 danni a un giocatore bersaglio Un danno a ogni creatura Distruggerei questa Ma non questa E gli farei 4 danni a lui La fiamma è devastante Adesso farebbe 3 danni Potrei usarla per questo Ma non giocherei nient'altro Questa costa 4 Questa costa Però ha rapidità Facciamo la fiamma devastante Però la fiamma devastante Dovrei avere più carte nel cimitero Per fare anche Il discorso del controllore Di quella carta Potrei giocare L'incendio apire E se gioco la fiamma devastante Adesso faccio un danno solo Però potrei attaccare Quindi attacchiamo Attacca Se adesso lui si difende Se si difende con questa Ok Decido di difendersi con quella E quindi non facciamo niente Va bene così per adesso In realtà Poteva essere Forse era meglio Se usavo direttamente La fiamma devastante E basta Anzi potevo usarla In realtà Contemporaneamente A questa cosa Hai una carta istantanea No Ci bicchiamo 3 danni E fine Mi chiamo 3 danni E fine Però non sta giocando niente Quindi Adesso vediamo Il principale Ok Gioco un'altra carta Un altro servitore Unico Quindi posso pescare ancora Se la distruggo Ok Manteniamo basso Il numero di creatura Che ha Più possibile Possiamo giocare L'elementale del fuoco Che costa 5 Questo costa 2 Però possiamo fare 4 danni in tutto La furia di chandra è buona Ma fa solo un danno A ogni creatura avversario Che non è tanto Questa rapidità anche Quindi Però se lo uso adesso Lui me la para con quello Potrei giocarlo Costa questo Però dopo non ho nient'altro Lo giocare O giochiamo l'elementale del fuoco Allora Ciao elementale Elementale del fuoco Una delle carte più vecchie Di tutto quanto magic Cioè Proprio Primissimissimissime edizione È stata fatta Quindi Veramente Veramente Un bel po' di tempo fa Un'altra ariete Che prende P2 P0 Se ci sono altri Artefatti E ci sono altri Artefatti Direi Ok Importante che non attacchi Elementale del fuoco E questo Cos'è Impulso infuocato Infligge 2 danni A una creatura Se Ci sono 2 più creature Infligge 3 danni Che è buono Perché posso usarla Immediatamente Quindi facciamo 3 danni A Questo Più posso usare La furia devastante Fare 4 danni Se voglio Che ha fatto solo Mi sono perso qualcosa Nel tuo cimitero Ci sono 2 o più Carte Istantanee Stragonare Impulso infuocato Che vede 3 danni A quella creatura Ma ne ha fatti solo 2 Ah perché aveva Mi sono perso qualcosa Non aveva Mi sono perso qualcosa Mi sa Posso fare così E fargli un po' di danno Oppure posso fare così E usare 3 Anche 4 E distruggerli Questa Aspetta piano Questa che cosa fa Questa mi fa pescare una carta Questa Mi fa guadagnare 3 punti vita Facciamo così Facciamo 1 2 Gli eliminiamo Questa E così vediamo Se peschiamo una carta Se la carta costa 2 Posso giocarla No non costa 2 E a questo punto Attacchiamo Però No così può pararmi Può pararmi con questa Ed è un nulla di fatto E Sta cosa che non ho Fatto 3 danni Ne ho fatti solo 2 Non riesco a capire perché Forse devo rileggere Prendo 4 di 4 Se prendiamoci 4 A questo punto Non blocchiamo Non avrei dovuto Prendermi questi danni Adesso vediamo perché E lui gioca L'argilla primordiale Mentre l'argilla primordiale Entra nel campo A tua scelta Diventa una creatura Artefatto 3-3 Una creatura Artefatto 2-2 Con volare Oppure una creatura Artefatto Muro 1-6 Con difensore E aggiunta Gli altri tipi Ok Quindi una creatura Che può essere Un po' di tutto E in questo caso La fa diventare Una 3-3 Normale Ok Voglio vedere Un attimo Di nuovo Io ho usato Questa E avevo già Due carte O forse avevo Una carta sola Nel cimitero Mi sa che è quella L'unica cosa Che ho contato male Fondamentalmente L'impulso infuocato Adesso mi farebbe Fare tre danni Due o più carte Istantanee Stregoneria Hai tre carte Istantanee Stregoneria Quindi farei tre danni Posso usarla Anche subito Contro Questa Perfetto Possiamo usare Un altro elementale Oppure questo Che costa Questo E questo Che costa Questo No Giochiamo un altro Elementale Andiamo sul sicuro E direi che possiamo Attaccare con uno Dei due elementali Tanto che l'altro Sta in difesa Decidi di pararmi? Non decide di pararmi Quindi Bam Cinque danni Perfetto Ok Adesso lui decide Di attaccarmi Io posso Mi sta attaccando Con tutto Io posso difendere Il fatto che mi attacchi Con questo Mi sembra un po' strano E facciamo Che tu difendi Questo In teoria Dovrebbe Questo agisce Prima No Questo agisce Dopo Quindi questo Muore In teoria Lui può farmi Solo due danni Invece me ne fa Quattro Ah perché La creatura muore A fine del combattimento Tutto Ecco Questa è un'altra Piccola Piccola cosa Che è magic E il sistema complesso E anche questo Cioè capire effettivamente Quando succedono le cose Colosso Sgretolato Che a travolgere Questa creatura Può infliggere il danno Del combattimento In eccesso A un giocatore In difesa A un planeswalker Mentre attacca Quando il colosso Attacca Sacrificalo Al fine del combattimento Quindi fa un Solo combattimento Però fa sette danni Che è tosta 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 Quindi dobbiamo cercare Di distruggerla Adesso Con Un Furia di Chandra Un Qualcosa per sparare Fondamentalmente E La finitia di Chandra Non basta Quando un avversario Viene inflitto Danno Ok Questa me la fa Riprendere in mano Potrei usare Questa E potrei Il problema Se lui fa sette danni O tre Me ne prendo sicuri Con sta cosa Direi che giochiamo Tutto A sto punto E attacchiamo Con tutto No Attacchiamo con uno Solo Perché uno degli elementali Mi serve per difendere Però se attaccavo Tutto Gli facevo Dici danni E il prossimo turno Vincevo E' un po' rischioso Forse riusciamo a vincere Lo stesso Il prossimo turno Intanto gli facciamo Cinque danni Vediamo cosa fa lui Decido di attaccare Con una sola No Decido di attaccare Con tutte e due E ho deciso di bloccare Questa con questa E Questa Con questa Perché almeno Lui si pre Questa non fa niente Io mi prendo solo Tre danni Per fortuna Solo che ne ho sei In tutto Quindi non è che sia Proprio Una pacchia Infatti come vedete Mi fa tutti i danni qua E me ne fa altri Tre In faccia Ok Comunque ho il controllo Del posto A meno che non gioca L'ultima carta E gioca l'ultima carta Che metti un segnalino 1-1 Su ogni creatura Altefato e controlli Benissimo che l'ho giocata Adesso Che non c'è nessuno Perché se la giocava prima Era un grosso Grosso Grossissimo problema Ok Giochiamo questa Direi che possiamo fare Furia di Chandra Direttamente in faccia A questo Così gli eliminiamo Anche quella creatura Abbiamo fatto un po' di danno E con questo Più questo Dovrei fare 7 Giusto giusto E abbiamo vinto Quindi proprio È capitato a pennello Il finale Ottimo E fuori 1 E fuori 2 E ce l'abbiamo fatta Quindi tostino Abbiamo imparato un po' Che cosa sono gli artefatti Come funzionano Almeno le creature Artefatto Per la precisione Che erano molto 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 In voga Nel piano di Mirrodin Dove effettivamente Ci sono solo Costrutti O quasi E vediamo di andare pure avanti Con l'epilogo La buona notizia Che stai iniziando A padroneggiare Il tuo dono Della piromanzia La cattiva notizia È mandato in fumo Decine di prezioni Artefatti E raso solo la fonderia Senza dubbio Ora il capitano Baral Raddoppierà I suoi sforzi Pur di trovarti Ce la faremo Scappare del capitano Baral Lo scopriremo Nel prossimo episodio Di Magic Duel Io sono Ace the Brave Namaste And be brave